Due anni di ricerca e sviluppo, una consolidata partnership con il Centro Edile per la Sicurezza e lo Sviluppo che formerà tecnici progettisti, imprese di costruzione e posatori e che ha ospitato il workshop di formazione tecnica sui sistemi costruttivi per le impermeabilizzazioni. L'occasione per la società Colmef di Gubbio di presentare anche la propria nuova divisione specializzata proprio per le impermeabilizzazioni Geodry. Il vantaggio di questo prodotto è la praticità di posa, la velocità di realizzazione ma soprattutto poi delle qualità tecniche intrinseche che riguardano l'omogeneità dell'impermeabilizzazione che si va a fare, la minore incidenza degli agenti atmosferici e la durabilità nel tempo. Innovarsi sicuramente e soprattutto differenziarsi, differenziarsi andando ad individuare domande specifiche, ben precise e andando in qualche modo a essere un po' unici nel proprio mercato. Quindi è questo che Colmef cerca di fare con Geodry come ha fatto in passato con la pietra ricostruita che mi piace citare, 15 anni fa circa Colmef è stato fra i primi in Italia ad avere questa intuizione ed oggi è l'unico produttore italiano ad avere l'intera filiera e tra i primi in Europa a possedere questa tecnologia e a produrre per il mercato europeo e non solo. Titolo del workshop era il futuro dei sistemi di impermeabilizzazione dopo il saluto del responsabile dell'ente di formazione che ha ospitato l'evento, Andrea Ruffini è stato il direttore commerciale di Colmef, Remo Fioroni a raccontare la storia e l'attività presente dell'azienda Gubina nata nel 1980. Il professor Nicola Faina, docente universitario a Roma e Perugia ha invece spiegato i punti critici della progettazione dei sistemi attualmente in uso ovvero la possibile difettosità dovuta al rischio dell'errore umano della posa in opera. La ricerca e lo sviluppo in cui le realtà importanti, quali ad esempio l'azienda Colmef credono ed investono, permettono proprio di superare e di dare una risposta a questi che sono i problemi attuali anche stando all'argomento odierno dei sistemi di impermeabilizzazione ed è grazie ad un'attività continua di ricerca e sviluppo che Colmef è riuscito a mettere a punto questo sistema innovativo di impermeabilizzazione sotto piastrella mediante il quale con una membrana prefabbricata si riesce a posare in opera un sistema assolutamente continuo, sicuro che non è soggetto più ad alcun tipo di errore umano. Sara Meniconi, responsabile ricerca e sviluppo Geodry, ha spiegato i sistemi del futuro e le norme di riferimento. L'evento, organizzato grazie anche alla collaborazione con Alfa Group, ha ritenuto di particolare rilievo per l'attività dell'ente di formazione che l'ha ospitato. Colmef ci offre questo prodotto da lanciare sul mercato che potrà risolverci molte problematiche legate all'impermeabilizzazione e anche dare tempi di posa più veloci che tradotto in soldi vuol dire risparmio nella mano d'opera e nella posa. È importante in modo eccezionale questo evento perché riesce a mettere insieme quelli che sono i posatori la collaborazione con il centro di formazione e il produttore.